Ticosa, costi impazziti, un altro milione e duecentomila euro si somma a quanto già speso fino a oggi. La conferma dei timori estivi del sindaco Lucini, si era parlato in agosto di un ipotetico altro milione, è arrivata nero su bianco ed è contenuta nel bilancio consuntivo dell'amministrazione, cifra levitata appunto di duecentomila euro, imputato speciale sempre l'amianto contenuto in quantità da definire nei terreni della spianata di Via Grandi. Con ordine, la gara per lo smaltimento dei rifiuti tossici era stata vinta dalla Autotrasporti Pensiero con un forte ribasso d'asta e assegnata per un milione e sei. La loro aggiunta guidata da Stefano Bruni aveva acceso un mutuo da 2 milioni e 4, 800 mila euro in più per compensare eventuali rischi. Poi nel luglio scorso la giunta Lucini ha stanziato altri 800 mila euro a fronte di una richiesta della ditta, costo quindi fino a quel momento 3 milioni e due. Oggi le nuove cifre si arriva a un totale spaventoso, 4 milioni e 400 mila euro. Cifra bilancio si è detto anche se l'analisi sui terreni sono in corso in questi giorni. Obiettivo capire quanto amianto sia contenuto nei cinque cumuli di terreni al centro dell'area. In più pesa l'incognita di altri ritrovamenti recenti, solette trovate a 1,4 metri di profondità sotto cui potrebbero celarsi altre sgradite sorprese. La situazione della bonifica sta oggettivamente diventando ingestibile, ha detto oggi il sindaco Lucini. I costi lievitano, i tempi anche, ora siamo costretti a fare nuove verifiche su cosa c'è nel sottosuolo. Sul milione e 200 mila euro stanziato nel bilancio consuntivo, Lucini spiega che in parte si tratta di una misura cautelativa nel caso di nuove sorprese, ma naturalmente aggiunge qualche timore per ulteriori spese c'è già. Ora valutiamo come uscire da questa situazione anche se non è semplice. In definitiva una cosa pare certa, la fine del cantiere individuata tra dicembre e gennaio è sostanzialmente impossibile.